Oggi 7 maggio 2020, bentornati in studio, queste sono le notizie di oggi. Riprende l'edilizia pubblica e privata e finalmente si avviano i cantieri per la messa in sicurezza del territorio saccense. Sono quelli relativi ai finanziamenti ottenuti a seguito delle alluvioni del 2016. I primi due a partire saranno quelli per la messa in sicurezza del torrente Can Salamone e del ponticello della strada di Contrada Raganella. Il primo intervento prevede la pulizia del torrente Can Salamone e la realizzazione di una vasca di calma a servizio dello stesso, i cui lavori saranno consegnati alla ditta incaricata il 13 maggio prossimo. Il secondo intervento prevede la sistemazione del ponticello della strada di Contrada Raganella, che insiste sul torrente Baiata, la cui consegna dei lavori alla ditta esecutrice è prevista per il 18 maggio prossimo. Chiedono di poter tornare a lavorare presso il mercato rionale di San Michele a Sciacca. I venditori ambulanti del settore alimentare rientrano fra le attività consentite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consentita purché sia regolamentata dai sindaci per evitare assembramenti e con l'obbligo per gli operatori dell'uso costante di mascherina e guanti in monouso. Si è fatto portavoce delle loro istanze il sindacalista Enzo Danimarca della Confesercenti di Castelvetrano, che lancia un appello al sindaco Francesca Valenti. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato un cinquantenne riberese già noto alle forze dell'ordine perché coltivava una vera e propria piantagione di marijuana. L'attività di controllo si è svolta nelle campagne di Contrada Torre, nello specifico in una serra. Nei circa 70 metri quadri coltivati, i militari hanno rinvenuto decine di piante di marijuana, già adulte e alte, circa un metro e mezzo, pronte per la raccolta. È iniziata stamattina a Ribera la pulizia straordinaria delle spiagge. I lavori sono stati appaltati con una gara ad evidenza pubblica a cura della Ribera Ambiente, la ditta giudicataria e la Mediterranea Servizi di Racalmuto. I lavori avranno una durata di circa 20 giorni. Un rigido protocollo sulla sicurezza, accompagnato da un puntuale e ben articolato codice di autoregolamentazione concertato con le parti sociali, ci è a Sicilia, prova a scardinare il muro della chiusura forzata che si prolunga e penalizza le categorie produttive, nonostante l'avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il segretario regionale della Confederazione, Pietro Giglione, in audizione alla terza commissione legislativa dell'ARS, ha esposto convincenti motivazioni alla presenza anche dell'assessore alle attività produttive Mimmo Turano, affinché si arrivi in tempi rapidi alla riapertura di alcune attività. Questa mattina, presso l'ospedale di Sciacca, ha avuto luogo la consegna di un bilirubinometro transcutaneo donato dall'Associazione Orazio Capurro Amore per la Vita all'Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia. Si tratta di un'apparecchiatura che permetterà di misurare la bilirubina nei neonati senza prelievo ematico e quindi evitando stress per il piccolo, il dolore per la puntura del lago e la successiva pressione sul tallone per fare fuoriuscire il sangue dal capillare, l'attesa per l'esito e anche, così, il risparmio dei consumabili. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, potete consultare le nostre notizie all'interno del nostro portale online sempre aggiornato, gioprestia, corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.